Sallusa 1 settembre 2010. Sappiamo che questi messaggi sono accolti soprattutto da chi è già interiormente attento, e percepisce l'importanza del tempo occorrente. Altri, danno un'occhiata di sfuggita ma se i messaggi non sono in sintonia con la loro mentalità odierna, non incidono sul loro modo di pensare. Comunque sia, nessuna lettura o notizia è superflua perché è possibile che una nuova idea resti per qualche tempo latente e poi rimontare a galla. È qui che si delinea il vostro compito perché, senza farvi la fama di persone che tentano di imporre agli altri le proprie idee, tanto le vostre parole quanto il modo di agire sono osservati, sia pure in modo inconscio. Con l'avvicinarsi della fine dei tempi, questo genere di contatto è necessario per risvegliare chi vive ancora nelle basse vibrazioni. C'è naturalmente il grande risveglio che sta toccando la razza umana nella sua totalità, ma le energie irradiate sulla Terra hanno bisogno di tempo per elevare intere popolazioni. Tra non molto saremo tra voi, prima del nostro arrivo, vi sono state fornite molte informazioni per conoscerci meglio. I messaggi sono uno dei tanti mezzi per raggiungervi, ed è difficile pensare che solo poche persone reagiscono favorevolmente all'idea che siamo tutti uno. Detto questo, ci sarà tempo per assimilare che esiste soltanto un unico Dio onnipotente, vivente in ogni anima. Non importa il nome usato per definire Dio, quel che conta è l'unificarsi di tutte le varie religioni. Avete molto in comune, e sarebbe d'immenso aiuto se Dio fosse visto come amore universale verso ogni forma di dita. È soltanto l'uomo, che separa e divide, e tali differenze devono essere sanate. Se delle anime desiderano ancora restare separate, questa è a cento acuto una scelta personale e, come tale, rispettata. Tale scelta, tuttavia, ritarderà la loro evoluzione ma, essendo la vita senza fine, esse continueranno a progredire nel percorso da loro scelto. Come a tutte le anime, un aiuto costante sarà loro offerto, fino a quando ascenderanno. Di fatto, non siete mai soli, persino nella profondità delle vibrazioni più basse, benché possa sembrare il contrario. Non siete mai senza la presenza di Dio al vostro fianco e spesso camminate sulle sue orme, il fatto, che ne diate la sua presenza, non fa alcuna differenza. Quando le vicende della vita vi sfuggono di mano, Dio è sempre là con voi e cerca di risollevarvi il morale con l'amore, che non conosce limiti. Nei tempi presenti, avete più che mai bisogno di fede per poterli attraversare e per alcuni il tragitto sarà duro, ma qualunque siano le vostre esperienze, non dureranno a lungo. Noi, emissari di Dio e suoi messaggeri, siamo qui per svegliarvi e provvedere che possiate inoltrarvi con passo sicuro sul sentiero dell'ascensione. Davvero, niente è più importante per voi e appagherà il desiderio, che avete espresso di uscire dal ciclo della dualità. Sarà un viaggio colmo di grande eccitazione e scoperte, quando finalmente arriverete a comprendere chi siete. Ritroverete la felicità e, alla fine, potrete mettervi alle spalle tutti questi ricordi tristi e dolorosi. Saperlo, dovrebbe darvi la forza di attraversare in columi questo ultimo periodo. Abbiate fede, che così sarà, perché già molte volte avete superato queste prove. Vi ripetiamo spesso che siete esseri potenti ed è proprio così. Possedete un potere, che supera la vostra immaginazione, nonché il potenziale per ottenere qualsiasi cosa desiderate. Siamo perfettamente informati di quanto accade sulla Terra e, anche se per un certo verso tutto sembra abbastanza tranquillo, fuori campo stanno accadendo moltissime cose. Noi lavoriamo di continuo per dare forza ai nostri alleati indicando gli obiettivi da perseguire, e loro rispondono molto bene. Tutto quanto vi è stato promesso sta per succedere, e con questo molti problemi saranno spazzati via. Vi sentirete più che ricompensati per tutti i disagi e i patimenti sopportati. Permetteteci di ripetere ancora una volta che non siete vittime delle circostanze, ma tutti voi sapevate che la presente esistenza vi avrebbe provato al limite. Accettaste perché volevate essere tra chi avrebbe avuto l'occasione di vivere la fine dei tempi. Conoscere in anticipo quanto sta per succedere, vi permette di prepararvi mentalmente a prendere tutto con maggior facilità. Non dovete preoccuparvi per il futuro perché, tra le scelte ora disponibili, potete decidere quelle che preferite. Se si tratta dell'ascensione, cercate allora di vivere la visione di come immaginate il futuro questo contribuirà alla sua realizzazione, e non vi si chiede nulla di più. Noi rendiamo tutto semplice perché, in effetti, lo è, mentre di solito è l'uomo, che complica inutilmente le cose. Siate amore in tutto quello che pensate e fatte, e lasciate che le energie accompagnino ogni azione in cui siete coinvolti. Ovviamente non è facile, ma questa è la sfida che veniste ad affrontare sulla Terra. Potete riuscirci, perché siete già stati qui in precedenza e avevate superato le prove con successo. Quando arriveremo sulla Terra, non desideriamo esser trattati come a voi superiori, malgrado il nostro livello spirituale molto più elevato, noi vi consideriamo a noi pari e vi trattiamo da esseri sovrani quali siete. La condizione attuale non ha relazione alcuna con il livello spirituale, perché ciascun'anima può fare rapidi progressi sulla Terra, specie nel tempo presente. Secondo quanto osserviamo, il mondo intero è in sudduglio con il risultato che milioni di persone hanno necessità diverse. Pertanto, una delle vostre prove più rilevanti è mostrare che amore e compassione riescono ad emergere, insieme alla preoccupazione del benessere del prossimo. Finora la risposta collettiva è stata straordinaria e questo è un indice più che positivo di quanto le nuove vibrazioni hanno toccato il cuore delle masse. Dimostra, infatti, che state cominciando ad accettare che la vita è una in tutte le sue forme, e questo è quanto ci aspettiamo da anime diventate illuminate. Abbiamo nel cuore un grande desiderio di conoscervi e vogliamo che sappiate quanta cura prendiamo di voi. Quel che siete e quel che forse avete fatto, non ci riguarda perché vediamo soltanto la vostra luce e conosciamo le dure prove che avete attraversato nel corso del ciclo di dualità. Siete delle anime coraggiose, fiduciose nel superare tutte le avversità, e davvero lo avete fatto in numerose esistenze. La vostra forza risiede nella ferma convinzione di essere in grado di affrontare qualunque problema di si presenti e questo atteggiamento ha fatto di voi dei leader. L'uomo ha bisogno di anime di tal genere e la vostra storia mostra che, quando occorre, emerge l'eroe del momento. Io sono il Siriano Salusa e vi assicuro che la Federazione Galattica ricaverà grandi vantaggi dall'avere gli umani tra i suoi nuovi membri. Avete affinato le vostre qualità nel fuoco della Terra, diventando i guerrieri che porteranno la luce e non temono nessuno. Non di meno, siete l'incarnazione dell'amore e in questo consiste la vostra grande forza. Non farete mai del male ma, al contrario, prenderete cura di chi è nel bisogno. Grazie, Salusa. Mike Quinsey Traduzione Costanza 2003 Costanza 2003